Se l'altro giorno sei stato alla manifestazione per la pace a Roma, secondo me sei un coglione. Scusa se te lo dico, ma non hai capito che chi l'ha organizzato non è per la pace nel senso che vuole che Putin si arrende. È per la pace nel senso che vuole che l'Ucraina si arrende, vuole smettere di inviargli le armi. E questo significherebbe il massacro del popolo ucraino che sta già succedendo. Quindi pensiamoci bene prima di dire, di smettere di inviare le armi. Perché c'è l'Iran che sta dando tanti droni molto economici, sta vendendo tanti droni molto economici alla Russia, uno dei pochi alleati rimasti della Russia. E con questi droni stanno facendo un sacco di danni, stanno esaurendo la contraerea ucraina. Quindi hanno bisogno di altri missili, di altre armi per continuare a resistere, come noi durante la seconda guerra mondiale. Pensate se durante il fascismo e il nazismo ai partigiani che chiedevano armi, magari agli americani e agli inglesi, gli fosse stato risposto ma no, noi siamo per la pace, non ve le mandiamo le armi, come lo ribaltavamo il regime. Quindi pensateci prima di andare alle manifestazioni. Pensateci prima di andare alle manifestazioni dove bruciate le bollette e chiedete al governo di pagare in parte le bollette se non vi rendete conto che se il governo ci deve mettere i soldi e questi soldi ci deve fare magari facendo debito pubblico aumenta l'inflazione e quindi questo fa aumentare il costo della vita in generale e quindi questo fa sì che la bolletta dopo verrà ancora più alta. Dobbiamo capire di chi sono le colpe e la colpa non è certo solo della guerra. Se la colpa fosse solo della guerra magari varrebbe comunque la pena pagare tanto per salvare delle vite, per provare a salvare delle vite. Ma la colpa non è solo della guerra, se vi ricordate gli aumenti c'erano stati già dal 2021. A seguito del Covid, di tutte le chiusure del Covid, si era bloccata tutta la produzione e quindi c'era stato un aumento di tutto, anche delle materie prime. Ma poi molti stati avevano risposto al Covid tenendo le persone in casa e dandogli contributi, bonus. Non solo in Italia c'erano i bonus a cazzo, ne hanno andati tanti negli Stati Uniti che va bene aiutare la popolazione però anche questo genera inflazione, come perché si critica il reddito di cittadinanza. Non è che non va bene, ma se so soldi che non abbiamo e dobbiamo fare debito, si genera inflazione e aumentano i prezzi. I prezzi stavano aumentando già dal 2021, alla fine del 2021 erano aumentate tantissimo la corrente. Poi certo con la guerra la Russia è quasi monopolista per il gas verso alcune nazioni, Putin può fare i prezzi che gli pare quindi a seguito delle sanzioni ha aumentato i prezzi, ha aumentato il gas e questo ha fatto aumentare di nuovo la corrente elettrica e la benzina perché sono ben equivalenti. Ed ecco qui però che entrano in gioco i paesi dell'OPEC, vedete quali sono i governanti stronzi con cui ce la dovremo prendere. E ecco che qui torna l'Iran che fa parte dell'OPEC e oltre a dare i droni alla Russia reprime pure i manifestanti e le manifestanti uccidendole nel sangue, reprime le manifestazioni della gente che chiede più diritti. Praticamente che hanno fatto i paesi dell'OPEC? Hanno detto adesso che il prezzo del petrolio è aumentato per vari motivi. Se noi cacciamo fuori ogni giorno meno barili, abbiamo gli stessi soldi di prima, lo stesso ricavo di prima ma cacciando meno barili e quindi ci teniamo più produzione per il futuro. È solo che facendo così, questo se abbassi la produzione i prezzi aumentano ancora di più e questo ha fatto alzare ancora di più i prezzi, capite? La situazione è complessa, non c'è un'unica causa, è facile strillare, molto più difficile capire. Qui all'Orto Dio ci siamo organizzati bene, lo sapete, ce ne frega poco dei costi delle varie materie perché usiamo pochissimo gas, niente benzina, pochissima corrente, ci produciamo quasi tutto da soli. Ed ecco qui il mio bellissimo impianto solare termico, vedete? Che ci produce un sacco di acqua calda. Siccome ieri che era stata una bella giornata, il pomeriggio sera non ho usato l'acqua, ho voluto provare, ho voluto vedere, stanotte ha fatto freddo, comunque non troppo ma un po' di freddo. Ora stamattina alle 7 mi sono fatto un bel bagno, bello bollente, e l'acqua era così bollente che non l'ho miscelata abbastanza che all'inizio non riuscivo nemmeno a entrare. E dopo mi sono fatto una bella barba, era ancora bollente, quindi regge bene. Ottimo, ottimo investimento, e dice ma ti fai il bagno, ma con questa crisi ti fai il bagno? Vi insegno un paio di trucchi per rendere il bagno meno impattante. Intanto se come me ve lo fate bollente, l'inverno non lo colate via quando è calda l'acqua, fatela almeno diventare fredda, così vi scalda un po' l'ambiente e vi fa da piccolo termosifone. Ma soprattutto tenetevi l'acqua nella vasca, non la scolate subito, e tutte le volte che dovete scaricare il water, invece di usare lo sciacquone, che sono 20-30 litri, soprattutto se dovete fare solo la pipì, prendete una bacinellina da 3-4, massimo 5 litri, ci prendete l'acqua dalla vasca e scaricate. Ed ecco che così io mi faccio, sì, magari il bagno ogni 2-3 giorni, però poi non scarico mai, perché io con una vasca da bagno ci scarico 2 giorni. E ecco che ho recuperato l'acqua in più che avevo sprecato, piccolo trucchetto. Ma oltre all'impianto solare termico, come sapete qui abbiamo anche il fotovoltaico, questi bei pannelli qui, questi bei 15 pannelli che fanno quasi 4 kilowatt di potenza. E oggi è un giorno speciale, perché non so se vi ricordate, chi mi segue da un po', il 18 gennaio di quest'anno, del 2022, eravamo arrivati a 30 megawattora, a 30 kilowattora di produzione, che, considerando il vecchio prezzo della corrente, quando costava poco, due anni fa, a 20 centesimi al kilowatt, comunque sono 6.000 euro, ecco lì che ti sei ripagato l'impianto. Ma adesso i kilowatt costano il doppio, più del doppio, almeno 40 centesimi se non di più. E guardate un po', guardate, non so se riuscite a leggere, 35.000, non so se riuscite a leggere. Abbiamo prodotto altri 5.000 kilowattora, altri 5 megawattora, in meno di 10 mesi, in 294-295 giorni. Sono quasi 17 kilowatt al giorno di media, una bella media. Beh, è tutto il periodo più soleggiato è stato, mancano proprio i 2-3 mesi più bui del resto. Quindi, a 40 centesimi al kilowatt uso 2.000 euro. Se questo impianto mi produce più di 2.000 euro all'anno decorrente, da paura. Voi ancora non ve lo siete fatto, che state aspettando? Vi fate così un bel 4 kilowatt da 8.000 euro, e in meno di 4 anni ve lo siete ripagato, e poi è tutto guadagno, no? Fatevi furbi. Anche se sapete, io tutto questo sono contento di spendere poco, sono contento di consumare poco, però tutte queste scelte le ho fatte per dei motivi ideologici, per una questione ecologica, per cercare di rispettare l'ambiente, per cercare di impattare poco sull'ambiente, sui cambiamenti climatici, alla faccia di tutti quelli che dicono che il riscaldamento globale non esiste, or to dio.